Buongiorno a tutti, siamo qui con il club Leonessa, siamo sul Po, non svelerò la zona perché non sappiamo se è una zona protetta, vediamo qui Giacomo Bianchi sul suo Wrangler superproto che prova un passaggio abbastanza estremo, siamo stati provocati, un altro Wrangler ha detto che lui è stato l'unico a passare e adesso tocca a noi dimostrare la preparazione del mezzo, ecco i consigli del ragazzo, il pilota riflette sulla strategia da adottare ed eccolo che sgasa, devo dire che non ci dà neanche molto, la macchina in penna, passaggio fatto con gran classe e grande stile e per il momento da qui è tutto, il pilota molto soddisfatto, alla prossima!